Ora perché comunque è collegata la cosa, a me sinceramente non interessa niente, ho visto un video prima, non dico di chi, ok? Non faccio pubblicità, anche perché su YouTube non te lo permette pure con il loro consenso, non si può fare, ma ho visto un video prima, si sta parlando del tema San Giuliano e Boccia. Ora, San Giuliano dice una cosa e Boccia poi invece ne dice ben altra, anzi addirittura Boccia ne incara la dose facendo la matta, cioè facendo vedere cose che in realtà non dovrebbero essere viste. Anche quella possibilità, guarda, con gli occhiali smart che riprendono Montecitorio, i corridoi e le stanze, ma anche solo un metro di Montecitorio non può essere ripreso, soprattutto per una che non ha cariche ufficiali. La moglie di San Giuliano sembrerebbe lei aver detto, no, caro maritino mio, quella a me me puzza, non me convince, non mi fido, perciò non darle nessun incarico, chiedo l'allontanamento, eh? Guarda che chiedo l'allontanamento. Posto amore, posto, glielo dico io. Ciao, è stato un piacere, è bello, ma devi andare. Ah sì, a Boccia, e adesso sai come ti sputtano alla grande? E-mail, G7, occhiali smart, dichiarazioni, contro dichiarazioni, a bestia, a voi, mortacci, dei rimortacci, in alto insieme verso i 100 mi iscritti, attivate qua sotto la campanella per ogni aggiornamento del canale, grazie di cuore ognuno di voi. Ma come può essere collegato, cioè, scusate, come può essere collegato che in realtà nella sede PD, quando Renzi era nel PD, era, in un certo modo, con la Boschi, ecco, eh? Le voglio evocavi capisce, eh? Chiariamo. Cosa c'entra sta cosa? Cosa c'entra? Perché all'epoca la Boschi ancora non era nessuna. Che c'entra, scusate? Ah, perché la Boschi faceva parte del gruppo Forza Italia, Cribbio, quando era in vita a Bomberlusconi, e però andava nella sede PD e stava un po' corretto. Cioè, scusate un po', scusate, eh? Scusate, questo non lo sto dicendo io e non mi prendo nessuna responsabilità. Non mi prendo nessuna responsabilità. Ma mi si può spiegare, io chiedo a chi ha pubblicato, eh? Mi può spiegare, lei cortesemente, perché è un signore, eh? È un signore. Lei, come fa a sapere queste cose? Uno. Due. Ma che razza di collegamento è? Con Boccia e San Giuliano. Boccia è un influencer. Glamour. Fine della storia. Niente di più, niente di meno. E anche se fosse Renzi, Boschi, due politici. E soprattutto la cosa più importante di queste questioni personali, che non c'entrano niente con la politica, ma solo pettegolezzi, sticazzi.